Il commissario straordinario di Licata rende noto che il Consorzio di Ambito di Agrigento Servizio Integrato in Liquidazione ha comunicato che è stata inserita nel FONI, anno 2014, una quota da assegnare ai comuni il cui servizio idrico integrato è gestito da Girgenti Acque, per essere destinato ad utenti residenti meno abbienti. È stata fornita dunque apposita direttiva al dirigente dei servizi socioassistenziali per la concessione del bonus idrico che si configura quale agevolazione sulla tariffa utenza residenziale domestica per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. Potranno usufruire della riduzione della bolletta idrica, cosiddetto bonus idrico, gli intestatari di utenza residenziale domestica del servizio idrico in regola con il pagamento delle relative bollette ed il cui valore ISEE in corso di validità per l'anno 2013 non sia di importo superiore a 7.500 euro. A parità di indicatore ISEE saranno privilegiati i nuclei familiari con un numero di componenti più elevato. L'istanza dovrà essere presentata dall'interessato dell'utenza idrica su apposito modello scaricabile dal sito ufficiale del comune o reperibile presso l'ufficio anagrafe o all'ufficio relazioni col pubblico in biblioteca entro e non oltre il 19 di questo mese. L'istanza dovrà essere corredata da attestazione ISEE in corso di validità anno 2013, fotocopia della bolletta idrica e fotocopia del documento di identità. I soggetti utilmente inseriti in grudatoria beneficeranno di una riduzione nella bolletta dell'utenza idrica sino ad esaurimento delle risorse assegnate. L'ufficio dei servizi sociali provvederà a trasmettere l'elenco dei beneficiari all'ente gestore al fine di permettere allo stesso di applicare la relativa agevolazione sulla bolletta idrica previa verifica del pagamento delle bollette. È stato istituito inoltre un gruppo di lavoro presso il Dipartimento Anagrafe Sito in Corso Roma per assistenza alla compilazione dell'istanza ed il controllo della documentazione. Grazie a tutti.